Questo mio impegno in associazione e questo ruolo di presidente ci ha portato a cercare di cogliere i cambiamenti che si stanno svolgendo intorno a noi e di portarli a tutti quanti i nostri associati in maniera tale che il settore possa porsi sul mercato in un modo nuovo, in un modo attivo e presente senza però dimenticare tutto ciò che ci ha portato ad essere un settore molto importante nel nostro paese. L'innovazione è tradizione.